www.redigio.it e la storia continua La razza è istinta, ma dove sono le prove? A parte i numerosi resoconti dei primi esploratori europei giunti nel nuovo continente, annotiamo da lì in poi un susseguirsi di rinvenimenti straordinari, che spesso la scienza ha inteso ridicolizzare, se non fece tacere. A onor del vero, nel corso degli ultimi cento anni, numerosi sono stati casi concramati di truffa da parte di gente senza scrupoli o di semplici burloni, un po' come quel che accade oggi con i cerchi nel grano. Ma ciò non significa che tutti gli altri rinvenimenti siano da etichettare come falsità. In questa sede, per ovvi motivi di spazio e non per tediare oltremodo il lettore, abbiamo inteso sceglierne solamente alcuni da ritenersi indicativi per l'argomento. Nel 1577 in Svizzera, venne alla luce i resti di quello che poteva essere un uomo alto 5 metri e 80 centimetri. All'inizio del secolo scorso, in Francia, nella località di Glossel, si rinvennero, oltre a ossa e carni umani fuori dalla norma, anche grandi impronte di mani, nonché manufatti e monili, fatti apposta per essere usati da qualche gigantesco essere. La scoperta, fatta casualmente, risale al marzo del 1924. In questa località, fu chiamata Campo dei Morti, furono trovati anche numerosi segni grafici incisi su tavolette di terracotta, una sorta di alfabeto. Insomma, il primo rinvenimento fu eseguito da un archeologo dilettante, il medico Antoni Morlet. 3.000 reperti portati alla luce, ancora oggi conservati al museo di Glossel. Quanto rinvenuto nel sito, fu sottoposto più volte ad analisi negli anni 70 del secolo scorso e col metro della termoluminescenza, sulle ceramiche e sui vasi perché hanno subito il processo di cottura, o del carbonio 14, per le ossa perché contengono sostanze organiche. I risultati furono controversi, ma la teorica del carbonio 14 evidenziò in alcuni casi un'adattazione fuori da ogni logica. Si parlò infatti di 17.000 anni prima, e quindi non accettata dalla comunità scientifica. Infatti, ulteriori accertamenti, disposti anche dal governo francese, permisero ad altri studiosi di affermare che le ossa rinvenute risultavano introdotte nel sito in epoca posteriore. Negli anni a seguire furono scoperte pure palesi tentativi di contraffazione, tanto da screditare ulteriormente quanto era inizialmente emerso. Oggi, nessun archeologo, per timore di compromettere la propria reputazione, è disposto a misurarsi con l'enigma di Glossel. Anche in Marocco, ad Agadir, furono ritrovati degli arnesi che, teoricamente, solo degli uomini con altezza di 4 metri potevano sollevare. Pesavano infatti anche 8 kg l'uno e servivano per cacciare. Qualche anno dopo, nella Hawaii Siu Pai Canyon, gli uomini della spedizione scientifica Don Hay scoprirono un'incisione rupestre di un tirannosauro che, a detta degli indiani, sarebbe opera di giganti. Nel 1943, un'isola delle Aleutine, degli ingegneri militari trovavano osse e crani che, in proporzione, dovevano appartenere a uomini alti ben 7 metri. Prestando fede ai racconti che narrano di uomini altissimi che avevano abitato in un remoto passato le zone oggi contrassegnate sulle cartine come Sahara, Camerun e Niger, alcune spedizioni fecero scoperte strabilianti. Negli anni 30 del secolo scorso rinvennero effettivamente le tracce dei giganteschi Sao. Questa spedizione, più proficua di quella capeggiata dall'antropologo ed etnologo Marcel Graiol e dei coniugi Leboeuf negli anni 1936 e 1939 che interessò la zona del Ciad. Qui si rinvennero sepolcri di dimensioni fuori dal comune, nonché monili di bronzo raffigurante ibridi completamente diversi della nostra razza. Oggi, a quanto pare, gli appunti e le risultanze di questa spedizione sono introvabili. Marcel Graiol, 1898-1956, fra l'altro, è lo stesso che ci ha fatto conoscere per primo qualcosa di più circa i Dogon. Infatti, fu a capo di diverse spedizioni nel continente africano dal 1931 al 1946, tra cui quella che è ricordata come missione da Carl Djibouti, nella quale studiò l'incredibile cosmologia di quel popolo. All'incirca in questi anni anche lo studioso olandese Ralph Cohen-Iswald trovò qualcosa di interessante, dei denti molari sei volte più grandi di quelli normali. Infatti, per terminare questa breve carrellata, negli anni 50 del secolo scorso, Pei Wenchung, mentre si trovava all'interno di una grotta di Lingenekwansi, rinvenne una mandibola che per dimensioni poteva andare d'accordo con i denti del Cohen-Iswald. Tanto è vero che entrambi attribuirono appartenenza ai Gigantopithecus. www.redijo.it E la storia continua.